Salve carissimi tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mio, benvenuti se è la prima volta che inizi a visitarla. Quest'oggi parliamo di Topolino numero 3207, una copertina ovviamente legata al terzo capitolo del marchio di Moldrock, terzo capitolo di Francesco Cartibani e Lorenzo Pastrovicchio su questa PKN e sulla nuova era di PKN, ma non solo. Adesso questo giro rispetto alle altre volte non guarderò in basso, ma guarderò la pagina di Topolino, dal sito internet di Topolino, prenderò le immagini anche dal sito di Topolino per farvi vedere qui alla mia destra, alla vostra sinistra, le anteprime di queste storie. Partiamo dalla prima storia contenuta all'interno di quest'albo, che è per l'appunto PKN il marchio di Moldrock parte 3 ad opera di Francesco Cartibani per disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Visivamente è una gran bella storia, si prosegue da dove eravamo rimasti sul finire del secondo capitolo, però ci sono dei salti logici che il lettore deve fare e alcune cose che da fan ho apprezzato, ma che mi viene da dire PKN perché dovrebbe supporre, perché dovrebbe pensare queste cose, perché dovrebbe farle queste cose. Una delle cose che ho trovato abbastanza odiose è stata leggere l'articolo prima della storia e beccarmi un'informazione che poi sì mi sarebbe arrivata nel giro di una decina di pagine, però il finale precedente non lasciava trasparire questa ipotesi, non la paventava in questa maniera così esplicita, tant'è che mi sono detto, ma ha senso fare un articolo iniziale così? All'interno di questo capitolo avremo un vero e proprio viaggio di PKN alla ricerca di un modo, di un metodo, di un qualcosa, di un qualcuno per cercare di affrontare e sconfiggere Moldrock. La storia è carina, è molto bella, molto ricca di momenti, però ci sono dei certi elementi che non voglio anticipare, non voglio spoilerare, in particolare quello relativo al personaggio misterioso che ci viene annunciato, ci sarà prima della storia, ma anche la copertina con tutti questi mostricciattolini che quello che dicono fanno supporre a PKN che succedono certe determinate cose, che ci sia qualcuno lì dove sono, che non lo so, mi sono sembrate un po' non dico forzature in senso stretto, ma comunque cose che il lettore coglie e gli mettono hype al lettore, ma che non dovrebbero suscitare lo stesso hype proprio persone di PKN che non ha tutte le conoscenze che abbiamo noi lettori. Ed è un, se vogliamo, un errore un pochettino grossolano, però la storia risulta comunque molto godibile, molto apprezzabile e voglio sapere come va a finire, perché il finale di questa storia rimane comunque molto aperto in attesa del quarto e ultimo capitolo di questo ciclo del Marchio di Moldro, che sono curioso di vedere dove andrà a parare. Si prosegue con una storia di Augusto Macchetto per i disegni di Ettore Gula, Paperino Paperotto al giro di Quacktown, era stata presentata su Anteprime in una maniera tale che mi sembrava potesse essere una mini serie di più episodi, invece è un capitolo singolo con Paperino, Paperino Paperotto ovviamente, che vuole partecipare al giro di Quacktown con un'altra storia sportiva, non ai livelli di quella di Sisto Nigro e di Paolo Mottura, ma comunque dove la forza di determinazione, la forza di mettercela tutta, la volontà di arrivare alla meta sono tutti elementi che vengono in un qualche modo visti all'interno di questa storia che quindi risulta molto apprezzabile, però ecco, è la storia della settimana scorsa sotto certi punti di vista, trasposta e adattata per anche un pubblico più giovane con più battute, più gag comiche, con anche un impegno didattico, se vogliamo chiamarlo didattico, comunque sia un insegnamento di certi valori apprezzabili sia dagli adulti che forse, in questo caso, rispetto alla storia precedente, è anche un po' più per i più piccoli e niente, è una storia anche qui, secondo me, che io ho gradito, mi è piaciuta, è stata piuttosto divertente chiaro, non è una storia di Enna sul personaggio di Papirino a Papirotto, la differenza si sente tantissimo però risulta comunque gradevole sempre di Augusto Macchetto, continua il ciclo dei misteri impossibili dopo quello della volta scorsa che era Pippo che faceva il villaggio turistico abbiamo il venditore, è una serie di mini serie, è una mini serie che non mi convince particolarmente cioè si può esplorare il mondo dell'impossibile in tante maniere e con il venditore o con l'animatore dei villaggi turistici secondo me si scade in una serie di gag che non incontrano il mio gusto magari possono incontrare il gusto dei più piccoli però un pochettino si sente molto la differenza, la distanza rispetto alle storie di qualche tempo fa spero ecco di rivedere storie lunghe di X. Mickey sul topolino perché quelle che erano state proposte, a parte la prima che mi aveva convinto non tantissimo quella di Enna, l'ultima di Enna mi era piaciuta ma anche la seconda che non ricordo se era sempre di Enna o se era di Fausto Vitaliano comunque secondo me le lunghe possono ancora dire qualcosa le brevi soprattutto se trattate in questo modo apriti cielo si prosegue con Paperino Paperoga e gli occhiali realizza desideri di Valentina Camerini per i disegni di Giulio Chierchini il disegnatore è piuttosto particolare è un pochettino... non ha lo stesso gusto cioè mettiamola così è come... adesso ce l'avevo in mente mentre lo stavo per dire poi dopo mi è passato di mente ha uno stile molto vintage, molto personale Giulio Chierchini sicuramente non incontrerà il gusto di tutti come Asteriti, ecco mi era passato di mente e mi è ritornato come Sergio Asteriti è uno stile molto personale in più sono tutti e due sia Asteriti che Chierchini disegnatore di lungo corso sulle pagine di Topolino anziani quindi cominciano a sentire forse un pochettino il peso dell'età il peso, la fatica, tutto quello che vuoi sotto questo punto di vista la storia è gradevole in certe vignette in altra l'ho apprezzata molto di meno però riconosco la bravura dei certi autori nonostante alcune scelte, alcune immagini che non mi convincono del tutto la storia è molto semplice abbiamo Paperoga che crea degli occhiali in grado di realizzare qualunque desiderio Paperino non vuole sminuire il cugino e quindi realizzerà lui i desideri che Paperoga chiederà i desideri che vengono in mente a Paperoga proprio per non far sentire inferiore non far sentire triste il cugino sotto questo punto di vista è una storia molto carina con dei risvolti particolari anche bizzarri e con un finale piuttosto tranquillo ma che fa secondo me il suo lavoro di breve ma non di breve totalmente divertente fa anche riflettere sul concetto di famiglia sul cercare di venire incontro ai parenti anche quelli più stralunati come in questo caso Paperoga si finisce invece con Zeo Paperone e Germoglio i propizi di Carlo Panaro per i disegni di Ottavio Panaro che non dovrebbero essere parenti una storia in realtà quasi classica ciminiana se vogliamo sotto certi aspetti con uno Zeo Paperone che di improvviso si trova non riuscire più a concludere degli affari perché Rockerdak glieli ruba tutti Paperone che scoprirà che Rockerdak ha trovato in un paese remoto dei Germogli in grado di propiziare e rendere favolevoli gli esiti delle trattazioni e quindi andrà a sua volta a ricercare questi Germogli molto molto gradevole, molto carina una storia, un'avventura dal gusto piuttosto classico che secondo me fa bene fa bene che ogni tanto ci siano queste storie all'interno di Topolino per quanto non siano delle novità assolute in conclusione è un Topolino che credo, ritengo livemente inferiore rispetto al precedente quello precedente mi era piaciuto proprio tanto 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 questo ha i suoi alti e i suoi bassi ma comunque ha storie a mio parere apprezzabili quindi se potete acquistatelo e non leggete solamente PK perché secondo me merita anche per quello che c'è al di fuori di PK detto questo noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale sto ragionando se fare un video sul marchio di Moldrock a seguito della fine della serie così che posso dire anche rileggere la storia rievidenziare quelli che secondo me sono gli aspetti critici gli aspetti positivi della storia e farne un video apposito anche perché spoilerare mentre il Topolino è ancora in edicola non mi piace non lo voglio fare però dopo finita la storia lo farò probabilmente lo farò prima ancora che esca la Definitive Deluxe detto questo noi ci vediamo veramente ad una prossima video opinione del canale ciao ciao